Salve a tutti ragazzi, bentornati nel canale e benvenuti in questo nuovissimo video Sono tornato su eFootball perché sono uscite delle nuove carte da spacchettare Abbiamo PirloLeggenda con il pool grande, i giocatori del Tottenham Quindi adesso lo andiamo a vedere, non penso che pescherò dal pool però ve lo faccio vedere lo stesso Pescherò su questo qui che è il mio account principale e sul mio account secondario Visto che stanno regalando le monete con gli accessi Prima di andare come al solito vi chiedo di lasciare un bel like se il video vi sarà piaciuto Di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche Allora signori miei, è da un po' che non ci vediamo su eFootball nel canale Però questo qui è il mio team principale Ho portato al massimo Cancelo, che tra l'altro non lo sapete ma me l'ho comprato un po' di giorni fa Ho portato al massimo Van Dijk, questo già ce l'avevo Neymar portato al massimo E niente, in questo momento gioco così, ho cambiato l'allenatore, non mi ricordo se l'avevamo già visto Comunque gioco con contropiede veloce al momento E niente Quindi andiamo a vedere questi giocatori che hanno inserito Allora il pool, c'è sta Pirlo che non dovrebbe essere male Penso che sia l'unico dei questi tre che si salva Vediamolo un attimo Il buon Pirlino, vabbè controllo parla 92, possesso stretto 95, passaggio rasoterra 90, passaggio alto 92, calcitafermo 94, tira giro 98 Controllo 92, naturalmente non è proprio rapidissimo, però questa per me è una bella carta Una bella bella carta, peccato che non penso che ci butterò monete su questo pool Perché poi c'è sta Owen che non mi pare niente di che Ah aspettate, mi viene un'altra cosa Pirlo quanti livelli ha? 10 Tra l'altro 10 livelli non so, pochi eh Mi si può alzare la velocità e l'accelerazione, assolutamente Poi c'abbiamo Owen 14 livelli Boh, questo regà Oddio a me non mi serve, potrebbe essere carino ma boh E poi c'è Jürgen Koller Fulgro di gioco Anche questo, mamma mia che storia Velocità 65 Accelerazione 59 Guardate il grafico, non so se se vede, si se vede sotto la mia cam C'è 11 livelli ma boh Per il resto nel pool c'è sta roba carina Però tipo Marquinhos già ce l'ho C'è Sonaldo Modric Suarez Müller De Fraio, Riss Onana Sommer Eccetera eccetera Bejeder Walker Zaccaria Fino a che non si arriva Alle pippe più assolute Allora io in questo video non Pescherò da questo pool, ci penso Perché comunque Pirlo potrebbe essere veramente interessante Anche se non Ne ho così bisogno Allora qua invece il pool dei giocatori di questa settimana Che abbiamo i Tottenham Io naturalmente vorrei andarmi a pesca a lui Ma sapete già che La mia fortuna su questi pool è veramente limitata Cioè è stata fortunata penso solo ai primi pool Poi E poi niente di che Comunque 7 livelli per Son Eh questa è una gran carta Mi piacerebbe veramente trovarlo Eh poi ci abbiamo Henry Keen 7 livelli anche per lui Comportamento offensivo 92 Non è proprio uno dei giocatori più veloci Però pure questo Dovrebbe essere bello ciotto Lì davanti Altro interessante secondo me è Kuluseski Pure questo mi piacerebbe prenderlo Se non trovo Son E Poi niente I restanti regà non so Quanto mi possano servire A Ben Tankur Non so se è buono Un po' Dollo pallo 80 Lo so dare 82 80 Beh non è proprio un malaccio Però non è proprio il giocatore che mi serve Per il centrocampo Va bene abbiamo chiacchierato pure troppo Andiamo con il primo 4 stelle Chi sarà? Kuluseski Beh lo volevo Lo volevo So felice già Già so felice Ottimo ottimo Il primo Non mi posso lamentare Grande Kuluseski Andiamo con il secondo Give me Sonaldo Give me Sonaldo Please Dai 5 stelline 5 stelline per sognare 5 stelline Attenzione Harry Harry Kane Vabbè 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 Tanto un 5 stelle Ce l'ha dato Che Non è mai poco E poi se c'è Dà pure Sonaldo Sarebbe il top Noi ci portiamo a casa Kane Lo proveremo Dai Dammi Son Per Diana Give me Son Give me Son Please 5 stelle Please 5 stelle Dai Raga Vabbè Niente Raga Vabbè Via Ma chi sei Ma chi sei Via 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 Un difensore centrale In contrista Tra l'altro Velocità 68 Accelazione 63 5 livelli La busta Ce l'ha data pure Stasettimana Allora A questo punto Raga Io mi sposterei Sul mio account Secondario Come vi avevo Detto Quindi ci vediamo Fra poco Sul secondo account Allora Questa è la mia squadra Sul secondario Come avete C'ho avuto pure Abbastanza culo Perché ho piccato A Varane Ho piccato Nessun altro Mi pare Vabbè Chiellini Non mi ricordo Chi c'ho Aspetta E la Crua Sempre gratis Questa Questa qui Non ci shoppo Tutto con Monete Gratuite Questo è il Team Questo è quindi Il team Del secondo account Che non è Per niente male Secondo me Quasi che Se piccamo A son C'ho più roba Qui che De là Allora Ci abbiamo 300 monete Paccate Quindi Let's go Abbiamo già visti Quindi andiamo Diretti Sembra la son Qui signori Mi incazzo Veramente tanto Mi incazzo Veramente tanto Mi tocca Venire a giocare Col secondario Tu sta a vedere Subito 5 stelle Guarda 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 No un altro Gain Ok Gain Garantito Non ti da son Beh oh Sul secondario Gain Beh tanta roba Perché in davanti C'ho C'avevo dei problemi Benvenuto Andiamo col secondo Non lo sento Che invece Arriva un son Su sto Account Non lo sento Proprio So perché No portiere Ugo Ioris Comunque 2 5 stelle De fila Anche il portiere Mi sa che mi mancava Mi sa che mi mancava Pure il portiere Quindi Buono 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 Ugo Ioris Quindi a sto punto Regà Se è 5 stelle È per forza son Vediamo se ci fa La tripletta A sto punto Non ci credo più Regà Di 5 stelle Scammati Infatti 4 stelle Rodrigo Bentancur Signori Niente sonaldo Vabbè Pure questo Po' Fa comodo Però ce lo proviamo Comunque l'idea Che mi sono fatte Queste carte Che ci danno Così Che hanno pochi livelli Secondo me Sono un po' Per farci Provare i giocatori Perché poi Al momento Per quel che mi riguarda Per quel che penso I giocatori con i cp Avendoci più livelli Secondo me Divendono più forti Queste carte qua Soprattutto Te li puoi livellare Un po' Come vuoi Andiamo allo schema di gioco Perché Ma ti c'ho Pope Che adesso lo Cambiamo subito Con Ioris Poi al centrocampo In realtà stavo Verso Vene Ah C'avevo pure a Zapata Però a sto punto Il signore Norkin Ce lo portiamo No Mettiamo a posto De Pato E lo mettiamo In campo Eh Comincia ad essere Una bella squadretta Poi ci portiamo A Bentancur In panca A posto De Gianberlano Anzi Bentancur Non ho visto Che stile c'ha Si può vedere Da qui Onnipresente A posto De Tonali Perché tanto C'è lui Come collante Esatto E c'ho Regista creativo Guarda Il centrocampo Regà Guardate che squadretta Che c'ho sul secondario Cioè Una roba allucinante Qui magari Mettiamo Le un po' più bassi Mettiamo Le un po' più Così Bambi Saga Regà È una bestia Chiaramente Veramente Forte È un DC In più Secondo me Però più veloce Ok ragazzi Per questo video è tutto Questa era la squadretta Del secondario Road to glory Monza A breve Tornerò a Martellare Anche sulla Piattaforma viola Dobbiamo Scalare Il campionato Naturalmente Sapete No che La settimana prossima Inizia la stagione 2 Quindi si resetta ancora Di nuovo il campionato In teoria Se non fa scherzi La Konami E quindi Per questo Fase 2 Della prima season In realtà Non è che sto giocando Tantissimo Sul campionato Però Siamo pronti Per risalire Dalla stagione 2 Ci saranno tante Tante novità Io signori Vi ringrazio Se avete visto il video Fino a qui Vi saluto Con il mio account Secondario Fatemi sapere Nei commenti Chi avete trovato Se vi è piaciuto il video Naturalmente Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se vi fa piacere A me Fa sicuramente piacere E attivate la campanella Delle notifiche Se non volete perdervi I prossimi video Alla prossima Ciao a tutti